Per cui, insomma, si poteva arrivare a una certa intimità senza che conciò... Martelli, sia più conciso. Ma questo è il mio modo di esprimermi. Scusatemi. Questo orologio lo regalo lei alla signora De Matteis, vero? Sì. Quando? Ieri sera. Sì, ma quando, voglio sapere, è appena arrivato o prima di andar via? Nessuno era presente? Che tocca. Prego, risponda. Quasi subito, eravamo soli. Grazie. Mi pare logico, no? Cannot slay the dead, allaceli. Sì, sì, sì. Ma si butta di sotto quando si dice l'intelligenza, eh? Stasera andiamo a Ponticenturico, se buttiamo e serviamo l'antienata dentro l'allibale, eh? Voi due credete di prendermi per il fondo dei pantaloni? Ma i fessi siete voi che non credete che i fantasmi existono? Siete sono, non ci credo neppure io. Quando mangio peperoni la sera mi viene come un prurrito. Ecco i peperoni, Camila. Si vede che non li digerisco, ma mi piacciono. ...dalla valigia e riprenderla dal posto sicuro dove la nascosta sogna. Ti permesso? ... 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 Ma arrangiati. Se mi dai un po' di respiro, mi rimetto in piedi. Nelle tue condizioni, vedi, forse tuo padre ce l'avrebbe fatta. Nelle tue condizioni, vedi, forse tuo padre ce l'avrebbe fatta. Nelle tue condizioni, vedi, forse tuo padre ce l'avrebbe fatta. Grazie a tutti.